La Biblioteca delle Donne presenta oltre il canone scrittrici e lettrici con sguardi di donne per la redefinizione della storia della letteratura. Il ciclo di incontri stagionali vedrà due momenti in primavera e in autunno. Si parte il 15 maggio con Anna Maria Crispino di leggendaria e Maristella Lippolis scrittrice. Il secondo incontro il 31 con Clotilde Barbarulli e il terzo il 15 giugno con Nadia Tarantini, scrittrice giornalista, e Anna Maria Galeota, docente di materie letterarie che spiega anche il concetto di canone. La nostra serie di incontri si propone invece di esaminare i rapporti della letteratura femminile con il canone esistente in un'ottica che non sia necessariamente antagonista ma di collaborazione col canone esistente e di arricchimento del canone stesso, di tutta la letteratura femminile che sempre le donne hanno prodotto e sempre però ha lasciato scarsa traccia di sé. La seconda sessione partirà il 27 settembre con Giuliana Misserville, saggista, e Adriana Chemello per passare poi all'11 ottobre con Luisa Ricaldone e Laura Fortini, ma ci saranno anche Serena Guarraccino, Laura Marzi e Monica Farnetti, in un altro incontro ancora da definire. Il centro Donatella Tellini si conferma così un punto di riferimento importante per la città. Il corso tra l'altro ha anche il patrocinio della Società Italiana delle Letterate. Quello che io credo è che iniziative come quella che oggi vengono presentate insieme a tante altre che ne verranno continuano a rappresentare un modo per trasmettere pensiero, saperi, competenze femminile, per ridefinire sempre e comunque un modo di stare al mondo che noi donne abbiamo. Un discorso importante, questo anche per le scelte didattiche delle future e dei futuri insegnanti e per l'immaginario degli studenti e delle studentesse, per far sì che le scrittrici possano occupare il posto che meritano e che le allieve possano trovare un simbolico femminile nel quale riconoscersi. Non è la prima volta che la Biblioteca delle Donne entra nelle scuole. Entrare nelle scuole e consentire alle scuole di entrare in biblioteca stabilisce proprio un punto fermo nella nostra città, un punto fermo che la Biblioteca delle Donne vuole continuare a considerare e ha già cominciato precedentemente negli anni scorsi offrendo spunti e percorsi progettuali a bambini e bambine dai 3 ai 18 anni con il progetto su Jane Austen, con quello sulla creatività, quello sul 68 delle donne e oggi arriviamo a proporre questo ciclo di incontri sulla letteratura di genere che offrirà soprattutto alle studentesse, alle docenti, ma a tutte le cittadine dell'Aquila un'ottica diversa di approccio alla letteratura di genere. Grazie. Grazie.